Il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha trovato l'accordo con il Principe degli Emirati Arabi per la vendita di Alitalia. Qualcuno parla di svendita, è così? Sull'accordo che abbia portato a casa Letta con i Beduini non siamo molto certi e molto sicuri. Crediamo che Letta sia andata col cappello in mano a svendere Alitalia, che comunque resta un patrimonio per quanto riguarda almeno gli aerei a disposizione. Quello che ci lascia perplesso è quello che leggiamo sulle cronache oggi dei giornali, ovvero sia che Collanino e Banda hanno privilegiato qualche anno fa l'acquisto di aerei brasiliani, in alternativa aerei costruiti nel nostro paese da parte di Alenia e Aermachi, che aveva tutte le condizioni per essere un contratto favorevole. Questo ci lascia molto perplessi e noi questa mattina, io ho depositato un'interrogazione al Ministro Lupi per fare chiarezza su questa vicenda. Quello che ci chiediamo è se questo management, Collanino e Banda, siano all'altezza di trattare per il bene del paese. Quando ci risulta, ci sembra che i fatti dimostrino esattamente il contrario. Sono molto bravi a trattare per quanto riguarda i loro interessi e forse meno per quanto riguarda i interessi del paese. L'alternativa invece cosa poteva essere? L'alternativa, sicuramente in questo momento c'è l'Ustanza che spinge molto, ma a prescindere dal vettore, noi crediamo che, come abbiamo sempre sostenuto la Lega, bisogna favorire un piano industriale che finalmente vada a privilegiare quegli aeroporti dove si staccano i biglietti. E guarda caso, questi aeroporti sono al nord e non sono in questo hub fantasma che è a Roma o in altri posti. Per cui il piano industriale deve innanzitutto favorire il trasporto di persone e di merci, che ci risulta, ma i dati ce lo confermano, che viene prevalentemente richiesto negli aeroporti del nord. Grazie. Grazie.